Ciao a tutti! Oggi prepareremo le tagliatelle con crema di parmigiano al pistacchio e salmone affumicato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono tagliatelle, parmigiano, latte, burro, farina, sale, pepe, noce moscata, pesto di pistacchi, salmone affumicato e granella di pistacchi. Andiamo via alla ricetta. Per prima cosa cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere nel boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale mettere nel boccale il latte, il burro, la farina, il pepe, la noce moscata ed il sale. e cuocere per 7 minuti, 90 gradi, velocità a 4. Aggiungere il pesto di pistacchi, il parmigiano ed azionare il bimbi per un minuto a velocità a 4. condire la pasta decorando con salmone affumicato e granella di pistacchi. Tagliatelle con crema di parmigiano al pistacchio e salmone affumicato. grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti